Senza bet, lo riprovo, mi era accreditato anche gli altri 40 raga No, no, utente Come vedi mi era accreditato anche gli altri 40, ma ha aggiunto 100 euro, mica che schifo, 8 free spins Vomito con 8 free spins, ok, vabbè No raga, niente bet, tanto qua è una merda, lo sapevo Lo sapevo, era scam qua, non volevo far vincere chi andava sullo scam, lo sapevo cazzo che qua ci trollava malissimo Cioè raga non mi ha ancora cacciato Jun, sì vabbè ma quanti sono questi, 8 euro Non mi ha ancora cacciato Jun, uno di quelli che, porco Dio, non so come si chiami La colonna, quella che rimane vissa Cicistano, la bet di Peter di prima l'ho pagata, è l'upgrade esatto Jinbas Eh zio porco, adesso me lo attivi, che mancano due giri, cioè, inutile il cazzo Sono, sono i, sono i, sono i upgrade pinu, oddio Siamo a pagare un cazzo Imbarazzevole Riproviamolo 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 Non c'è Dio Io raga guarda, sono, sono il cazzo Di queste slot Non riesco veramente a dargli un Cioè più o meno Riesco a capire quando si vince Però in sé Giustamente Oh nice forse questi Questo è buono Insomma 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 Va bene Scende un altro upgrade da lì sopra Eh ma ciao raga Figa questi due bonus Mi hanno buttato per trollarmi Inutile Inutile Grazie Terz No bro devo prendere un altro bonus qua Grazie Terz per i due mesi Per gli otto mesi Che due mesi bro Grazie cucciolo Dammi un altro bonus Canneggio a te Grazie Luca no cap Per il prime Benvenuto cucciolo Grazie Matt Ciao Gib cuore rosso Quanti sono? Quanti sono? Non cazzo sono Grazie Kraken Per i due Bentornato cucciolo Madonna che sbocco Ma che imbarazzo Porco Dio Grazie Marky Grazie Marky Gib quando è stata la tua ultima volta in una chiesa? Sai che non mi ricordo quando è stata la mia ultima volta in una chiesa Deve essere sincero Cazzo qua poteva chiudere un botto di roba Poteva chiudere un botto di roba Oh le ha Le ha Le chiude le ha Le chiude Non le ha chiuse Ma non chiude la destra Cazzo Ma porco di Dio Niente raga Niente del niente Che sbocco Proviamo l'ultima raga Provo l'ultima Deve nemmeno appigliarne tutta crostatina Anche se vorrei Cazzo non ho anche pranzato oggi Sono svegliato alle 5 di pomeriggio Non ho neanche pranzato Ma che cazzo di vita faccio Porco Dio Ma che cazzo di vita di merda faccio Porco Dio Fatemi ordine qualcosa E mangiare Vai dallo scogliattolo Vogliamo andare all'auco Oh Non devi chiudermelo Porco Dio Quello Ma vaffanculo Se me lo chiudevi era buono Cos'è successo Porco Dio Ho schiacciato le tasti Che non devo schiacciare Ce la fai? Come modalitare play? Sera Gabronski Ti capisco Io sono stato tutta la sera a casa Dai suoceri Andavo ogni 15 minuti In bagno a gamblare Ogni cacata Mi costata 200 euro Grazie Grande soporo Basta con sto bonus Con sto reprei di merda Ragazzi Sti cazzi Tanto Quanto abbiamo di saldo? 3,75 Cioè Me l'ha già Me l'ha già fatto lui Il bonus Eh Aristotele Bella domanda Cioè Mi ha saltato il bonus Raga Incredibile Porco Dio No raga Guardate quando escono i bonus qua Porco Dio Sono in ritardo Tutti i bonus Tutti i bonus In ritardo Raga Tutti i bonus In ritardo Passi Fermati Mannaggia A te Scivola Scivola Di brutto Addirittura sul 10 Non penso proprio Ma che schimino d'attivo Ragazzi Porco Dio Se non escono i bonus Da 8 mesi Guardi che bored Cioè raga Non escono Che shunt Passi in quei crazy Da una vita E sono usciti Gli ultimi coin flip Una vita Forse